E' stato un giovedì sotto le stelle ricco di appuntamenti, quello dell'estate in città 2012, con i negozi aperti, musei e biblioteche in apertura straordinaria, visite guidate e tante occasioni di incontro e divertimento. L'estate in città offre quasi ogni giorno per due mesi numerosi appuntamenti, spaziando dal teatro alla musica, dal cinema allo sport, dall'arte ai laboratori per bambini, dal cinema all'aperto alle visite guidate, venendo incontro ad interessi e gusti di un pubblico molto ampio e di tutte le età. Ristorantini e bar hanno registrato il pienone, soprattutto quelli che offrivano musica dal vivo. Era presente anche il sindaco di Pordenone Claudio Pedrotti. Primo giovedì sotto le stelle, è un modo per stare insieme a Pordenone, è un momento in cui alla fine ci si può ritrovare senza grandi cose sofisticate, ma proprio per il piacere di fare due passi in centro. Io sono venuto con i miei amici, abbiamo anche l'occasione di festeggiare un compleanno proprio nel salotto buono della città ed è questo lo spirito, stare insieme, godercela la città, è una serata calda ma molto bella, abbiamo visto tanta gente, noi speriamo anche nei prossimi giovedì di vedere lo stesso numero di persone, proprio per dare la possibilità a tutti di stare bene. Come amministrazione questo è l'obiettivo che ci siamo dati, vi aspettiamo e vi aspettiamo anche nei prossimi giovedì.